Locatelli che si trova in uno scenario sicuramente inquietante, una strada in cui è stato completamente saltato tutto il selciato. Claudio, che cosa ci puoi raccontare? Siamo oltre l'aeroporto internazionale Borispil. Sono arrivato qua per indagare quest'alto fronte perché c'è raggiunta notizia che una terza colonna russa avesse unificato i fronti est. Per intenderci, questo è il sud-est della città di Kiev, siamo a 30 km oltre la città, oltre l'aeroporto internazionale e la situazione è questa. Il ponte alle mie spalle che vedete è stato fatto saltare in aria. I russi sono circa 10 km in questa direzione, quindi verso nord e questo spazio è completamente aperto. Ma la cosa peculiare in realtà è che non c'è praticamente traccia dell'esercito ucraino. In questo momento, in questa zona che abbiamo transitato per quasi 30 km, ci sono solo guardia civile armata ed erano esterefatti di trovare giornalisti. Quasi nessuno è venuto a indagare da questo lato. Però allo stesso tempo il ponte è stato fatto saltare perché questa è l'arteria che si prevede per l'avanzata russa verso l'aeroporto internazionale di Borispil, l'aeroporto centrale della capitale. Come ti spieghi questa assenza dell'esercito ucraino, una sorta di ritirata strategica? Questa mattina avevamo letto alcune informazioni che ci avevano anche un po' aperto il cuore, che appunto riferivano del fatto che l'esercito ucraino avesse rotto l'accerchiamento della capitale per mano dei russi. La capitale non è mai stata pienamente accerchiata, come ho ripetuto nei giorni scorsi. I fronti sono l'ovest, il nord-ovest, il nord-est e ora a 10 km il sud-est. Ma credo che il ragionamento in questo caso sia un altro. La mancanza probabilmente di truppe in certi punti della città, la localizzazione delle armi tattiche in altri punti hanno lasciato sguarnite diverse aree. Anche a nord in realtà c'è una minore presenza dell'esercito rispetto ai punti più forti, focali, che conoscete, che sono Buccia e Irpin. E in realtà a est Brovari, dove andremo fra pochissimo. Da Brovari stanno proprio evacuando migliaia di civili, è un fronte che è avanzato. Vi avevo portato, se vi ricordate, vicino al blindato russo che era stato catturato. Ma quella colonna è avanzata ulteriormente. Quello che volevamo capire meglio è proprio questo lato, quindi il sud-est, dove appunto c'è lo strategico aeroporto internazionale. Ma abbiamo trovato una situazione appunto insolita, dove non solo nessuno quasi è venuto a verificare, come anche a nord. Ma non ci sono quasi del tutto militari. E però hanno fatto comunque saltare i ponti, presupponendo, questo è stato confermato più volte anche in passato, che questa sia l'arteria principale di attacco dove rischiano di prendere l'aeroporto. Un'ultima cosa per farvi capire a chi ci ascolta la situazione in cui siamo. Questo, alla mia destra, è una specie di enorme tenaglia. A destra a 10 km ci sono i russi che sono vicini a questo punto strategico. Seguendo una specie di parabola, arrivano fino a Brovary, che è il quartiere più vicino a Kiev, è letteralmente la periferia di Kiev. Quindi c'è una specie di tenaglia dal lato est che si sta ricongiungendo, composta da tre colonne principali che puntano al lato est di Kiev. Spero che anche con le mani vi abbia reso un po' l'idea. Tra poco lo chiederò al generale Battisti, però voglio prima interpellare te, che sei sul campo e stai raccontando in prima persona questa guerra. Hai anche tu la sensazione che da giorni oramai ci troviamo in una sorta di stallo. Tu hai raccontato di questa tenaglia che si è appostata ma che ancora non si stringe. Sì, di fatto i fronti sono quasi del tutto immobili, eccetto minimi avanzamenti. Come però avete visto ieri, addirittura in diretta, i colpi di artiglieria di varia natura continuano a essere esplosi e anzi a nord non c'è proprio neanche un corridoio umanitario. Ricordo che dentro il fronte nord, per circa 15 chilometri da dove ci trovavamo ieri, c'è anche un italiano bloccato a rischio di cibo e acqua, tra l'altro ha avuto modo di contattarlo con un sms poco fa e la situazione è molto molto critica. Quindi sì, sono dei fronti che si sono quasi immobilizzati. Sicuramente due giorni fa è dovuto alla presenza del ministro degli esteri turco, che era in città. Qualche giorno prima dei ministri di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca. Ma ora la situazione è molto particolare e molto strana. È anche vero però che a livello diplomatico la contrattazione sembra che stia portando a una specie di cessate il fuoco. Entrambe le parti sembravano relativamente ottimiste. Questo potrebbe essere una motivazione alla situazione militare. Questo è...